ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono john red e prima di vedere il video vi invito a mettere like al video e se vi va iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo nelle ultime ore sul web ha fatto tanto discutere un video in cui eduardo tavassi e nicolin corvaglia discutono a fare indignare il web sono state le parole utilizzate dal quarto finalista nei confronti della fidanzata parole che hanno subito fatto il giro del social per cui molti intenti hanno richiesto la squalifica immediata tutta colpa di un gioco è la causa che ha fatto scoppiare una discussione nel van tra i due fidanzati il gioco a cui si erano sottoposti nelle ore precedenti prevedeva una serie di domande a cui entrambi dovevano rispondere sulle rispettive vite affinché dimostravano se effettivamente tavassi conosceva bene la fidanzata e viceversa michel ma a quanto pare non è proprio così così nelle ore successive hanno avuto un'accesa discussione ad usare parole forti nei confronti della vipona è stato il quarto finalista che ha anche minacciato di uscire dalla casa io esco dalla porta rosta stasera te lo dico perché sei una sfigata e basta ma proprio una povera sfigata detto questo andiamo avanti così non me ne frega un c***o a me del grande fratello della finale non me ne frega fai quello che ti pare ma vattene a fa vai vai fallo vincere a oriana questo gf queste alcune frasi dette nel van insomma verranno realmente presi dei provvedimenti oppure sarà lasciato tutto passare come al solito scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio da GioRed